Sono in atto grandissimi cambiamenti nel trattamento dei tumori. Questi cambiamenti hanno delle ripercussioni positive sulla vita delle persone e hanno anche delle ripercussioni sull'organizzazione che deve farsi carico oggi e sempre più dovrà farsi carico domani di tutti quelli che ne avranno bisogno. Da questo punto di vista abbiamo la fortuna che alcune delle innovazioni consentono di pensare di più a una gestione extra ospedaliera e quindi riuscire a concentrare in ospedale una quota delle attività e riuscire invece a portare fuori dall'ospedale un'altra quota è probabilmente l'unica possibilità per raggiungere al tempo stesso due obiettivi. Quella di detendere la pressione formidabile che in questo momento grava su tutte le oncologie ad alti volumi e quella di far sì che il paziente possa avere un trattamento migliore in una sede più vicina a casa e senza dover correre anche il rischio che in qualche occasione il dover stare in un ospedale comporta.